No Bella a tutti ragazzi sono Poschiavone oggi sono qua ancora sui zombie sulla nuova mappa che troveremo anche su playstation 3 fra circa un mesetto dunque siamo arrivati finalmente sul ponte di san francisco che adesso non ricordo il nome esatto di questo ponte ma poco importa e la prima cosa da fare dopo che siamo arrivati sul ponte sarebbe di sopravvivere se non ci avete armi comunque ci sono queste sedi elettriche andrete schiaccerete x o rotondo o quello che sarà e andremo subito immediatamente queste queste sedi ci porteranno in prigione e saremo in modalità afterlife dunque subito andremo in questa cella che troveremo il primo teschio adesso io gli ho sparato due raffiche di elettricità ma questo non c'è bisogno perché non è che dovete attivarli per prenderli dopodiché andremo lì ancora tireremo il nostro, lanceremo il nostro tomahawk, lo carichiamo e lo tiriamo e prendiamo il primo teschio fatto questo andremo alla seconda posizione che vi faccio vedere che è subito adesso qua mi ero perso mi sa è subito nell'ufficio del custode e troveremo il secondo teschio sempre in modalità afterlife ve lo farò vedere ma come vi ho già detto se sapete la posizione non c'è bisogno comunque io ve lo faccio vedere così almeno vedrete la posizione giusta dove sparare dove lanciare il vostro tomahawk così almeno lo sapete già boh non so comunque importantissimo ormai lo sapete già vi ho già fatto vedere la guida per trovare, per costruire il vostro scudo e anche quella per trovare, per trovare, per sbroccare il vostro tomahawk infernale dovrete avere per forza il tomahawk in questa missione, in questo obiettivo praticamente per prendere i teschi dovrete avere sempre il tomahawk in mano fatto questo andremo nella zona marina dove troveremo, nella zona marina troveremo il terzo e il quarto teschio di cristallo qui purtroppo non c'avevo il punto afterlife ma se non trovate il punto esatto e non avete il punto afterlife chiedete a un vostro compagno di squadra e ve lo segnalerà lui dove cercarlo oppure fategli cercare direttamente a lui prendere direttamente a lui adesso io non c'avevo il punto afterlife ma sapevo dove era il punto dunque vi faccio vedere dov'è sempre con tomahawk caricate, sparate e prendete il vostro teschio è importantissimo, cioè importantissimo se siete bravissimi su zombie potrete fare questi obiettivi anche più là però se non siete così tanto bravi o volete sbloccare subito al primo colpo magari il vostro scusate abbattere il gioco potrete farlo nei livelli più bassi se siete ben organizzati comunque qua è il quarto teschio sopra il lampione lo troveremo anche qua non c'avevo il punto afterlife all'inizio comunque l'ho preso è perchè abbiamo passato il livello l'ultimo, il quinto teschio lo troveremo sopra il tetto dunque andrò in modalità afterlife come sempre e vi farò vedere e niente come dicevo se avrete una squadra forte cioè ben organizzata diciamo che non sprecheranno il punto afterlife ogni ogni round riuscirete anche in quattro penso che sia proprio possibile in quattro noi abbiamo provato e penso che siamo anche riusciti in quattro ad arrivare sul ponte già al quinto round perchè non abbiamo sprecato infatti non abbiamo sprecato i punti afterlife già al secondo round no, già al primo round noi abbiamo lasciato un paio di zombie abbiamo fatto magari uccidere soltanto un compagno i zombie che c'erano al primo round ne abbiamo lasciato due del primo round e abbiamo sbloccato subito col punto afterlife senza sprecare altri punti afterlife abbiamo sbloccato una sala abbiamo sbloccato la porta per andare giù in lavanderia e così via comunque dopo che avete preso i cinque teschi troveremo nella sala questo blundergut gratuito andrete nella sala del custode e troverete questo blundergut gratuito dopo aver preso i cinque teschi comunque come sempre io ringrazio Luca che è il nostro accompagnatore nelle nostre avventure e Manu che praticamente è lui che mi dà le diritte per sbloccare tutte queste cose io vi saluto lasciate un bel like e al prossimo video ciao ragazzi ciao